eccomi qui nella diretta sto rispondendo ai vostri messaggi vediamo se adesso riuscite a vedere ciao a tutti allora ho sempre qui il mio librino di Ritorno alla vita di Pilates perché questa sera volevo condividere con voi una piccola parte iniziale dove dice e sottolinea l'importanza di questi esercizi fatti in modo ripetitivo ecco perché noi nella settimana stiamo facendo una routine di tre lezioni quindi non due come siamo abituati in presenza ma tre e ripetiamo la stessa routine di esercizi dandoci delle modifiche di volta in volta e quello che è molto importante e vi invito a mantenere questa rigidità questa rigidità intesa questa metodologia è del accettare gli aumenti che riusciamo a sostenere ok perché io vi propongo sempre dei piccoli incrementi ma voi potete semplificare l'esercizio così come l'abbiamo visto nella lezione precedente perché l'obiettivo è quello di essere rigorosi nel metodo rigorosi vuol dire sapere ascoltare che fascia muscolare deve lavorare che cosa dobbiamo sentire infatti proprio nei principi guida del mente Pilates nel suo libro dice che bisogna fare la pratica senza perdersi nelle istruzioni quindi è importantissimo sentire e ascoltare lasciarsi condurre dalle istruzioni quindi ecco perché io sono così logoroica e forse in video sono ancora di più perché sono da sola ovviamente non ho un'interazione con voi per cui vi chiedo di portare pazienza e di concentrarvi su questa che è la caratteristica del Pilates che è l'ascolto ancora prima di fare l'esercizio di prepararsi con i muscoli posturali e di sentire la propria attivazione mentre vi posizionate vicino al vostro materassino bevete un boccino d'acqua io poggio un libro attivo e saluto anche nella diretta Instagram oddio ho spostato il telefono così non si vedrà più niente eccomi ho sbagliato cioè Instagram per me è proprio difficile non avevo attivato nessun tipo di diretta ma una foto ok adesso abbiamo anche la diretta Instagram siamo qui per la terza lezione della settimana numero 2 ok quindi terza lezione settimana numero 2 devo togliere i commenti che dovrebbero già essere tolti per me è difficilissimo usare ok benissimo perfetto possiamo cominciare per cui ci prepariamo in piedi vicino al nostro materassino mancano ancora alcuni minuti vediamo se tutto è partito perfetto tutto è partito credo stiamo verificando ok lezione ribadisco lezione numero 3 della settimana numero 2 su Facebook ci sono caricate le lezioni anche per studenti che li trovate indicati per settimana 1, 2, 3 settimane e special per la prima settimana 1, 2, 3 della terza settimana e vedremo se volete fare le lezioni anche nel weekend fatevi sentire i vostri commenti le lezioni le caratterò anche su YouTube quindi possono essere poi frullibili anche anche sto cercando di togliere i commenti in Instagram se no non si vede non si vedono aiuto non si vedono devo rifare non capisco come si fa perdonatemi stasera non funziona il mio telefonino come si deve provo a chiudere e riaprire si è bloccato la diretta Instagram solo che ha delle persone che seguono anche lì quindi devo cercare di sbloccare la situazione vediamo se ce la faccio ok tiriamo via tutto disattivate le domande scusate il ritardo ci sono quasi ah mamma mia ok direi che ci siamo si vedono le scritte sotto ancora quindi non so bene come fare ma confido che vada tutto bene così insomma avete dei consigli ciao lì ciao ciao Anna ciao Stefano Mary Claudia allora sto litigando con Instagram portate pazienza ce l'ho fatta ok perché i comandi non sono sempre per una così chiama sono una grande tecnico di questi social allora partiamo in piedi quindi la nostra libia posturale è fondamentale troviamo un filo che c'è in questo suo soffitto e che ci faccia percepire la nostra colonna vertebrale come più alto più leggera quindi sentitevi crescere verso l'alto sentite che si crea spazio tra le vertebre cominciamo poi ad abbassare il mento verso la gola facendo in modo che la testa si rialline su piano con la scapola la ritornazione del mondo cioè che ci sia un allenamento tra il piano della testa e il piano delle scapole che è quello che perdiamo quando siamo in questa posizione che non ci stiamo esagerando però usando la tecnologia la quanto il computer qualsiasi tipo di lavoro noi andiamo a fare tutto molto con la flessione quindi recuperiamo questo allungamento sentiremo la cervicale del mare più lunga cominciamo la ricerca del primo volto dei muscoli fusturali abbiamo detto sotto scapolari li attiviamo come per andare a cercare una noccellina tra la punta delle scapole e quindi prendiamo una noccellina la stringiamo con la punta delle scapole e la proviamo ad abbassare simultaneamente allontaniamo due puntine ai lati dello sterno e poi lasciando cadere una noccellina ancora trova questa noccellina tra la punta delle scapole apri il petto allontaniamo due puntine ai lati dello sterno tieni questa noccellina controlla che le spalle siano lontane dalle orecchie e che le braccia siano morbide perfetto andiamo ora alla ricerca del secondo gruppo di muscoli fusturali il trasverso dell'addome ovvero il bustino aracci sul nostro punto di vita o meglio sotto al primo stato di muscoli stringendo questo bustino imaginario la pancia diventa il più piatta possibile la schiena diventa leggera e poi allenta il bustino ancora stringi il bustino pancia ripiata possibile la schiena alleggerita allenta il bustino ancora stringo questo bustino e allento tieni il bustino stretto circa il 60% del tuo massimo pancia piatta schiena leggera fianchi compatti sempre la mucerina stretta tra la punta delle scapole braccia rilassate dobbiamo trovare il pavimento pedico ovvero il muscolo che fa il contenimento del peso del corpo ci sbilanciamo un po' in avanti il peso sull'avanchieri senza sollevare i talloni teniamo le ginocchia sbloccate morbide quindi non piegate non distese non bloccate in estensione non bloccate in flessione non morbide peso leggermente sbilanciati in avanti e andiamo a chiudere la cerniera di un paio di pantaloni strotti questa sensazione di cerniera mi fa uno storico molto di trattenere la pipì e il pavimento pedico e abbiamo detto già che lo dobbiamo confonderlo con una contrazione dei glutei apri la cerniera proviamo ancora sbilanciato il peso in avanti sblocchiamo le ginocchia chiudiamo la cerniera come facciamo a capire se stiamo lavorando con i glutei o meno beh provate a stringere più possibile i glutei stringo i glutei più possibile non è quello che vogliamo trovare perché quello che vogliamo trovare rilassa i glutei è una sensazione più profonda meno superficiale chiudo la cerniera questo è il pavimento pedico ora tieni la cerniera chiusa di pantaloni anche nel tuo vestito e alla monsolina stretta tra la punta delle scapele i due puntini vengono ai metti dello sterno per trovare il figlio appoggiare le mani sopra le tue coste se vuoi chiedi gli occhi e concentrati sul tuo respiro inspira e metti l'aria sotto i tuoi mani confiamo le coste verso il traverso dentro soffi l'aria della bocca inspira e confia le coste verso fuori verso dietro soffi l'aria della bocca facendo un po' di rumore dagli altri denti continua questo respiro se ti gira la testa fallo con meno forza non devi buttare e fare l'aria con tutta la forza oppure fare delle spirate un po' più piccole quanto dovrebbe essere ognuno respiro cinque secondi espirate anche se compara la mia cinque secondi espirate il pezzo la pancia rimane come fermi sono le coste che si sollevano e tornano si sollevano e tornano ottimo andiamo a riprendere una sequenza che abbiamo imparato nelle altre giornate della settimana ma che sono male in seguito può comunque imparare un giro lo facciamo molto lentamente inspiro e salgo sulle punte dei piedi con le braccia allineate alle spalle come se fossero i bracci in trappi chiudi gli occhi bilancia bene il pezzo tra primo e punto dito unisci i palloni stringi i glutei e tira il bustino apri gli occhi è difficile vedere per quelli per quelli occhi chiusi vai sui palloni vai dietro metto sul fianco con la gamba destra allinea la testa con la gamba opposto una linea unica poi tira l'addome piega il ginocchio e vieni qui davanti in alto col sedere in fuori la pancia forte a questo punto stendi la gamba punta 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 fino ad arrivare a terra col piede a un altare lo sblocca il ginocchio altrimenti il bacino perde l'equilibrio e ancora sulle punte braccia allineate pancia forte peso tra primo e punto dito e tallo gli uniti se riesci chiudi gli occhi tira l'addome sblocca le ginocchia streggi i glutei scendi e vai dietro con la gamba sinistra più andiamo paralleli al palmetto più l'esercizio diventa intenso ma devi essere allineato chiedere sempre il bustino piega il ginocchio chiedere il bustino e stai nella posizione che abbiamo chiamato un break sedere fuori anche allineate pancia forte stendo la gamba sinistra con la punta in estensione senza ravesciare il bacino indietro vieni verso i palmetto quindi la difficoltà che abbiamo giunto il mercoledì era quella di andare sempre più allineati al palmetto ok quindi sempre più verso l'orizzontale e questo dovete scelterlo oggi proviamo a dare anche degli accenti da questi passaggi un'accelerazione è più difficile per avere un equilibrio questa è la sfida di oggi posso decidere di accettarlo ma devi controllare bustino sole pinte occhi chiusi occhi aperti scegli sui talnelloni dietro la gamba destra rimani qui rimani qui sblocca il ginocchio passa le spalle tira il bustino se te la senti accento andremo perfetto stendo la gamba punta 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 tallone e acqua al giù ed in mano su ginocchio sbloccate chiudo gli occhi stringo l'andone inspiro respiro apro gli occhi scendo sui talnelloni dietro la gamba sinistra e se me la senti sbloccata se te la senti accendo per passare l'andone ti viene lentamente ottimo stendo la gamba punta 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 tallone i più attenti di voi si ricorderanno che mercoledì abbiamo fatto anche quattro osaggi ci vogliamo aggiungere sulle punte chiudere gli occhi tallone i miei genocchi sbloccati pancia forte riapro gli occhi scendo sui talnelloni dietro con la gamba destra se riesci ruota la punta del piede proietta il vaccino verso il pavimento non guardare lo schermo in questo momento cerca di mantenere lo sguardo al pavimento quattro piccoli sbagli uno due stringi il gluto come un cupolo va bene quattro e accento in hundred benissimo stendo la gamba punta 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 martello e torno giù sali sulle punte occhi chiusi ginocchia sbloccate tallone uniti scendo sui talnelloni e apri gli occhi dietro con la gamba stifista sinistra quattro piccoli slanci punta del piede estraritata gamba di terra sbloccate e via uno due tre quattro accendo andred stendo punta senza la gamba indietro punta 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 martello sbloccate ginocchia appoggio un altro giù guarda spira occhi chiusi occhi aperti scendo sui talnelloni scendo sui talnelloni esci con la gamba andiamo uno due tre quattro andred stendo punta 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 tallone appoggio e di nuovo salgo sulle punte scendo sui talnelloni vado dietro con la gamba sinistra ruota la punta dei piedi sblocca la gamba di terra quattro piccoli slanci uno due tre quattro accento andred sblocca la gamba di terra stendi punta 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 tallone e alloggio aggiungiamo giusto per gioco le braccia chi deve essere assente può allineare quelle gambe anche le braccia allineiamo un attimo la posizione di terra i vedete il modo che sto su e giù quindi no spalle vicino alle orecchie giù scapola in masca e quando voglio fare più fatica questo movimento di caduta senza perdere il controllo dei bustini per cui inspiro e salgo sulle ponte occhi chiusi se è possibile tagliamenti brutte strette scelgo sui taglioni ok dieti con la gamba destra mentre le braccia salgono lettera V ovviamente allineate col busto quindi posso andare anche molto giù attenzione a un naso troppo in basso attenzione a un naso troppo in alto allineati via ho quattro piccoli slanci uno due tre quattro amuleta ottimo giù le braccia stendi la gamba destra punta 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 martello e appoggio benissimo sulle punte chiudo gli occhi talloni uniti ginocchia sbloccate scelgo sui talloni vado dietro con la gamba sinistra porti sulle braccia giù le scapole dietro sblocca la gamba di terra quattro piccoli slanci uno senti con la gamba di terra tieni con un bel bustino quattro e andrei giusto giù le braccia stendo la gamba sinistra punta 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 martello sblocca il genocchio appoggio rimane questo esercizio lo possiamo fare anche più volte questa piccola sequenza in piedi lo potete ripetare cinque volte tipo domani in modo da fare un allenamento anche senza la lezione completa di Pilates perché questo rimane un buon esercizio anche un pochino piediname con i piedi ricordiamoci che noi dobbiamo portare la tecnica del controllo dei muscoli posturali anche nella vita di tutti i giorni quindi a forza di ripetere la parte iniziale che come vi ho detto chiamiamo bibbia posturale dobbiamo poi ritrovarci durante il giorno a correggerci supponiamo di essere in piedi in fila e di dover stare lì in termore se sentiamo il calco sulla schiena dobbiamo in qualche modo cercare di sbilanciarci l'avanti sbloccare la ginocchia ritrovare il filo stringere il bustino chiudere l'acido del pallone moda tutta questa attivazione senti il peso sui pallone sullo zona normale chiaro cosa può servire ripeti mi sento un peso antico devo stare lì cosa faccio mi sbilanci l'avanti sulla piede sblocco la ginocchia stringo il bustino chiudo la cerchia dei pantaloni trovo ritrovare il filo eccoci qua senti come la schiena già leggerita perfetto la sfida di oggi abbiamo avanti con la sfida della stinge o del colpone in appoggio sui gomiti abbiamo fatto 4 ripetizioni 2 da 45 secondi e 2 da 1 minuto mercurio oggi vorrei farle più facili tutte da 45 secondi ma c'è la frenatura chi mi conosce sa vorrei farle quello che si chiama il work test cioè per vedere che livello di fatica siamo si può decidere di parlare qui parlo solo io ok quindi non va bene oggi vi dovete aiutare a contare fino a 45 vi insegnerò a contare nella prima ripetizione non dobbiamo andare troppo fuori ovviamente freghiamo 2 secondi ok quindi dobbiamo andare piano in modo dovete contare anche voi ad alta voce in modo da coinvolgere anche il sistema respiratorio durante questo esercizio sentirete che i bati si aumentano se sento che perdo controllo smetto di contare ad alta voce ok vi dovete aiutare veramente partiamo con la più semplice contiamo con 45 di due atti meditazioni la posizione è sulle genocchia ne faremo una sulle genocchia e una sulle genocchia e una sulle genocchia e una sulle genocchia e una sulle punte poi decidete voi chi più vuoi è più forte di fare tutto sulle punte dei piedi senza problemi io le ritorniamo e mi aiuteremo a condurre abbiamo detto che il corpo si deve sollevare la terra con un allineamento unico tengo anche l'orologio per vedere che mi è andato più forte nel concetto ok spalle basse testa lineata bustino fortissimo inspiro despiro e recogliamo 1 2 3 4 senza desastre della schiena 6 7 8 9 10 2 1 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 tieni l'addome abbassa le spalle respira 8 9 30 1 continua a contare 6 7 8 9 40 41 42 tira l'ombelico 4 5 e riposo ok io che ho contato 4 volte per 5 4 volte per 10 cosa ho detto mi spavano per terra no e l'ho detto sentite che ci sono due effetti schiena curva testi tra le braccia guardo l'ombelico non andate in basso non con i suoi schienzi più in alto disegniamo una lettera C tutta la schiena curva ci sono due effetti dicevo di questi esercizi il primo è che passa più nell'esercizio quindi sembra meno faticoso però il cuore sale più rispetto a quando lo facevamo senza parlare perfetto adesso proviamo in appoggio sulle punte dei piedi a 20-25 potete accoltunare le ginocchia vediamo appoggio i gomiti le punte dei piedi prendo anche il controllo sono state passate a parlare per secondi mancano ancora 5 secondi quindi sistemate legnate la testa pronti a partire 3 2 1 via 1 2 3 4 affonda bene i talloni 6 7 8 9 10 abbassa le spalle 3 4 5 6 7 allinea la testa 9 20 1 2 3 potete appoggiare sulle ginocchia se sentite il lavoro vostro schiena 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 forse 9 8 40 1 2 3 4 5 a poterci forse ho perso 10 secondi non spendo l'orlo oggi mentre parlavamo meglio per noi allungo tie dopo sarò più bravo se spendo l'orlo ovviamente mentre parlavamo non ci devi vedere la diretta allungo la schiena una bella curva si vi ho fregato mi ho fregato 10 secondi ai via ai via sono dopo buona allungatevi respirate state contando come c'è altro adesso non vi faccio cantare una canzone che è peggio forse allora terza ripetizione ginocchia in appoggio quindi ancora più precise respiriamo appoggio i gomiti se volete potete fare le più punte 3 2 1 saliamo quindi il collo ottimo pancia forte 4 5 6 7 puoi stringere anche i glutei 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 risultiamo un veicolo a pregola 7 8 9 30 1 2 3 abbassa le scapole 7 8 9 40 1 2 3 4 e così bellissimo questa volta abbiamo fatto un po' con il teggio allungiamoci dietro guardiamo bene con il naso e l'ombelicco in modo che abbassi di cadere se allunghi perché dobbiamo guardare il pavimento e dobbiamo essere allineati il più possibile con gli angli scatto succede che un po' per guardare lo schermo o un po' per altri fattori si devono ad alzare il collo quindi attenzione dopo ad andare anche a toglie 4 ultima ripetizione proviamo un appoggio sui punti dei piedi ma va bene anche le ginocchia decidete voi ricordate che dovete accogliere una soffilità ma soprattutto dove portare il terreno appoggio i gomiti 3 2 1 decollo 1 2 3 4 5 6 mi raccomando tirano un benito a basso alle spalle 9 10 1 2 3 affondo i talloni 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 dai che ci siamo 2 3 4 5 5 allineano bene la testa 7 8 9 40 1 2 3 4 5 appoggio il dolce 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 26 26 21 25 26 25 25 26 29 32 32 32 ma sotto il decollo da terra. In questa posizione riesci a stringere tutti e due i brutti e a tirare già il bustino. Se riesci a sullevare un po' di fianco da terra, hai già il trasverso attivo, quindi già così è un esercizio. Abbiamo detto le sforbiciate, quindi abbiamo cominciato a sforbiciare con una gamba avanti e una indietro, in cui rispetto all'alternanza abbiamo detto che per i più esperti i piedi dovrebbero fare flesso e stensione, ovvero piede a ballerino, una gamba che viene in avanti, piede a mano che viene in avanti, una gamba che va dietro, ma non vi perdete troppo in questo tipo di movimento perché è un movimento che dobbiamo trovare piano piano con la tecnica. Mentre passate per il centro dovreste far sì che i talloni si sfiorino e il bacino deve rimanere sempre bene allineato, la schiena si deve muotere, sostenuta dal bustino, da questo spiedino immaginario che trafiggere anche e si va a confliccare nel pavimento. Respira. Ottimo. Adesso vi fermerete con la gamba in alto dietro, la gamba in basso in avanti, in una bella sforbiciata, panci forti, spalle basse. Questo ventaglio rigido lo solleviamo verso l'alto dieci volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, respira, nove, dieci. Tieni il ventaglio parallelo a terra, le gambe sollevate da terra su due piani paralleli, le punte estrarotate. Apri questo ventaglio, rimanendo con le gambe paralleli a terra. Uno, due, senti il gluteo della gamba sopra, come si attiva la cupola, tieni il bustino, sei nella punta del piede, della gamba in avanti, portate il masso, senti anche bene l'adduttore, l'interno coscia. Sette, otto, nove, dieci. Non facciamo un movimento combinato. Muoviamo i talloni, tirate più forte che potete la mancia e immaginate di nuotare su un fianco, velocissimo, scompiato da uno spazio. Uno, due, veloce, veloce senza muovere il bacino. Tre, quattro, cinque, muovere le gambe veloci, sei, sette, otto, nove, dieci. Fermo lì, le gambe sono ancora su. Rimani, stringi il gluteo e tira l'addome, il busto e la pagina su uno muovere. Si muovono velocissime le gambe, metti il marmo, interno coscia, quadricipi di marmo, busto inferno. Non voglio di più. Via, secondo te. Uno, due, tre, quattro, tira l'addome, e cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Fermo lì, le gambe sono ancora su. Terza serie di quattro, via, scappiamo. Uno, due, tre, impegnati di più, tira di più la donna. Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Fermo lì, stringi il gluteo e tira l'addome a massa le spalle. Quarta e ultima serie, via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Fermi lì, stringi i glutei, coda le piscine tra i piedi, fianco sullevato, busto in corno, spalle basse, stacco le mani, stendo le ginocchia, stringo i glutei, respiro e riposo. Ottimo! una gamba più alta che si piega, il ginocchio viene vicino al petto e così, sentite che ha lavorato bene l'esterno coscia, il gluteo, manca l'interno coscia e soprattutto il bustino anche il fiatto. Per cui un esercizio globale. Ricordatevi di mantenere l'attivazione al medio del bustino, sempre, per proteggere la schiena. Ok, per venire a sedere, stendo la gamba sopra, piego la gamba sotto, mi spingo e vengo pian piano a sedere. Abbiamo il twist del bacino in appoggio con le mani dietro di noi, come se fossero su due piatti di una bilancia, quindi mi appoggio ma non mi spiaggio, ok? Non devo piegare i movimenti. Mi appoggio in modo che la schiena sia dritta. I piedi, gli alluci, hanno come riferimento un puntino sul bacimento e non dobbiamo scostare i piedi. Immaginate di poter tenere una barconota stretta tra le ginocchia. Nel caso in cui le ginocchia si allontano, non prendete il cuscino, non la fetta, lascia la mano. Mettetelo tra le ginocchia e tenetelo stretto. Ok, se non vi vengono grandi piedi, sollevate dall'ordine in questa posizione, ok? Posizione che si vede qua. Se vengono grandi invece tenetevi appoggiati tutti. Quindi, inspiro ed espiro ruoto e torno. Ci prepariamo in questa torsione, dissociando la parte inferiore dalla parte superiore del corpo. E questo è l'escalamento. Già l'altra volta abbiamo iniziato a vedere che possiamo ruotare, distendendo la gamba in posizione alla torsione qui. Riportiamo la gamba in flessione e ritorniamo al centro. Giro, stendo, riporto e torno. Giro, stendo. Schiena piano, non potete fare il fagiolino, ma andate a nascondere il collo. Collo lungo, i due puntini ai lati dell'esterno, belli, lontani. Questa è la nostra preparazione per esercizio. Chi di voi sarà sempre può tenere i piedi staccati da terra, ma sempre con il punto immagino. Ruoto e stendo. Torno e l'acqua. Ruoto e stendo. Torno e l'acqua. Stendo e riposino. gambe a rumbo davanti a noi. Se fate finta di avere un paio di jeans abitati, mettete le tasche nelle mani, le mani nelle tasche anteriori, per puntare, sentite questo calore, gli obliqui interni che hanno lavorato. Cominiamolo con le scant twist e gli obliqui esterni, come nelle matriosche, la parte inferiore della matriosca bloccata, la parte superiore si muove a un bloc. braccia che descrivono un cerchio, non possono anticipare il movimento, dobbiamo ruotare in blocco unico, inspiro e cresco, espiro e vuoto. Inspiro e torno, espiro e vuoto. Inspiro e torno, espiro e vuoto. Inspiro e torno e espiro e vuoto. Continua con questo movimento molto dolce. Se hai paura, come può succedere, di anticipare il movimento con le braccia, puoi mettere le mani in questa posizione. Apri chiedina. Allontana bene i due punti nei lati dell'esterno, ricordati del filo che ti allunga sul soffitto. In questo movimento, spalle basse, quindi so che spontaneamente vanno verso le orecchie, dovremo cominciare a sentire le diagonali più in alto del nostro corpo. Quindi gli obbligo esterni, che associati al lavoro di prima, ci fanno sentire tutta la diagonale del nostro corpo. Ritorniamo con le mani sui piatti dell'abrancia e leggeranno chiaramente. Andiamo a ruotare le ginocchia, a stendere la mano della bomba, torno e vado in cielo, allontana i due punti negati dell'esterno. Continua pure così. Qualcuno di voi è molto all'alto, perché c'è sempre l'azione, anche di persone qua, sempre online, perché comunque forse, vediamo se si fa poco. Ok? Allora, facciamo che possiamo anche ruotare, quando il break, estendere tutte le gambe. Piego, torno al centro, ruoto, piego, questo è un po' più difficile, quindi solo se sentite il controllo della muscolatura, se non andate a creare tensione nel collo e nella schiena, se riuscite a gestire il movimento. Altrimenti va benissimo il primo, con i piedi appoggio su una gamba, che si spegne, ma è solo l'esercizio di torsione, perché abbiamo detto che due, che è fondamentale controllare gli esercizi, non che l'esercizio avvenga che deve venire e che sia di forza. Prima. Ottimo, mi fermo qui, avvicino il più possibile i piedi al mio bacino, esco col petto allontanando due puntini nel lungo. Ottimo, muscolatura obliqua, soprattutto mani in tasca, nei jeans, la vita alta, sentite i piedi interni. Molto, molto bene. Andiamo a riprendere il fianco che abbiamo prima trascurato, per cui ci sdraiamo con la testa della porta opposta. stacchiamo le due gambe nella terra, quando devi uscire i tre piedi, pancia forte e cominciamo le nostre sporbiciate. sporbiccio, sporbiccio. Stringi bene i glutei della gamba, sia sopra che sotto. In Instagram non vedete le gambe, dovete ricordarvele da prima. Vedete? Vanno qui in su, scusate, ma sto ritirando le telecamere qua. Un computer, un telefono, un disastro. Ok, molto bene. Adesso, sempre controllando che le gambe siano ferme e che ci sia passaggio sotto tutto vita, rimaniamo con la gamba più in alto dietro e con la gamba più in basso e lavati in una forbice. A questo punto, dopo aver controllato la tensione del bustino, facciamo dei piccoli ventagli verso il soffitto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, rispira, nove, dieci. Ora delle piccole aperture di questo ventaglio. Stringi bene i glutei, tira bene il bustino, passaggio sotto il punto di scapola in tasca, via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ora, chiudo questa posizione, stabilizzo ulteriormente il bacino e via. Pinnate, scatto dallo squallo, due, tre, senza muovere il busto, senza muovere le spalle, sei, sette, otto, nove, dieci. Fermo qua controllo, stringo il gluteo e abbastro le spalle sul punto di scapola in tasca, seconda serie di quattro, uno, due, veloci, 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 tre, sento le gambe, sento i glutei, due, cinque, sei, senza muovere il busto, otto, nove, dieci. Stai qui, stai qui, stai qui, soliva le gambe da terra, terza ripetizione di quattro, via. Uno, due, tre, piccolo e veloce, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Fermo qui, fermo qui, stringo i glutei abbastro le spalle, quarta e ultima serie, via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Fermo qui, se vuoi appoggia la mano sul fianco, senti il tuo corpo forte e leggero, sollevamo ancora di più le gambe, controlla che le punte siano struttate, i talloni uniti, i glutei stretti, il bustino forte, le scapole in tasca, i glutei forti come il tuo popolo. Inspira ed espira, inspira ed espira, e poi riprosa. Ottimo, piccolo allungamento, sta diventando quasi veloce la nostra routine. Ormai vedete come sia importante ripetere l'esercizio, avere una dimensione dell'esercizio in senso di impegno, in modo da poter decidere se aumentare l'esercizio. Ecco perché le tre lezioni che facciamo a settimana le andiamo a incrementare piano piano, proprio per avere gli strumenti, sia per poter aumentare la difficoltà, ma anche per gestirla. Ok? Quindi tenendo l'esercizio un pochino più semplice. Ecco che andiamo nella parte sdraiata sulla schiena. Quindi siamo stupini con le gambe legate, abbiamo le braccia lungo i fianchi, dobbiamo trovare la posizione delle formiche sotto la schiena. La ripeto, perché sopra questa sera ci si aggiungerà una persona nuova, quindi la ripetiamo. Cosa vuol dire farlo più sotto la schiena? Schiaccio la zona lombare a terra, retroversione del bacino, zero spazio sotto la zona lombare. Rilasso sotto la zona lombare, ci direi un mano piccolo, più grande, dipende dalla nostra postura. Ok? Noi dobbiamo rovesciare, cioè schiacciare questo passaggio oppure recuperarlo facendo una modificazione del bacino, provando a utilizzare il più possibile il bustino che abbiamo trovato quando eravamo in piedi. Dovremmo poi fermarci, dopo qualche movimento, nella posizione intermedia tra queste due, che è la posizione in cui sotto alla schiena rimane passaggio, per una fila andiamo a difformiche. Niente di più, niente di meno. Quindi piccolo tunnel, col bustino stretto e la cernia dei pantaloni chiusa. Lo ripeto perché questa immagine è già conversata l'esercizio. Immagina di indossare un paio di mutandoni contenitivi a metà, indossali e ti accorgi che sono stretti di una talla. Questa tensione non ti fa schiacciare le formiche, le formiche ci sono ancora. Senti come già stai attivando i muscoli senza fare l'esercizio. Perfetto. Spalle e l'andone dalle orecchie, scapole in appoggio sul materastino, dita delle mani pelle divaricate, mano in appoggio senza deviazione del torso, il braccio e l'avambraccio se riuscite leggermente scostati da terra, così attiviamo i muscoli delle braccia. Se sentite che create tensione nel spalle del collo, appoggiate pure il braccio a terra. Ok? Inspiro. Ed espiro e sollevo la gamba destra facendo 100, un angolo di 90 gradi del ginocchio. Stringo ulteriormente il mutandonone e sollevo anche l'altra gamba. Controllo che ci siano dei formiche sotto alla zona lombare e che le tiglie, cioè la parte della nostra gamba che c'è tra il ginocchio e la capiglia, rimane a parallelo al movimento. Immagina di stringere una per l'altra le ginocchia. Controlla l'apertura delle formiche e rimanga costante, non sia né più alto né schiacciato. Se fai molta fatica, riporta una delle due gambe della perga. Lo puoi fare anche solo con una gamba. Chi riesce a farlo con tutte e due è estendiamo la gamba, la tendiamo più estesa, molto intenso e la raggiungiamo con l'altra cinque volte. Attenzione perché quando la gamba è distesa è molto pesante per i nostri ginocchi. quando sono tutte e due è ancora più. Tre ripetizioni, quattro e cinque. Torniamo indietro con la gamba destra. Ora, dobbiamo fare altre cinque. Se ve la sentite, tenete la gamba destra distesa, altrimenti la tenete piegata, ok? Potete farlo uguale tenendo la gamba destra piegata. Io faccio quella gamba destra piegata, così non avete paura di capire che non bisogna sempre fare l'esercizio al massimo, bisogna controllare il mutandone, formiche, via, cinque con la gamba sinistra. Uno, due, tre, controlla il bustino, mutandone, quattro, quinto e l'ultimo. Ottimo. Appoggiamo il piede sinistro, teniamo la gamba destra qui, stendo la gamba sinistra sul materassino, piede a martello, controlla il tuo mutandone, le formiche, appoggia pure il braccio a terra, fai venire il ginocchio verso di te senza schiacciare il formiche e cominci a disegnare dei cerchi. Disegniamo dei cerchi, il più possibile regolari, al soffitto, senza sbilanciare troppo il bacino, inspiro per metà cerchio, espiro per l'altra metà, la gamba sinistra che è distesa avrà il piede a martello, come se il tallone fosse ancorato a terra. Inspira, respira. Ottimo. Può anche fare il chik-chakrak, dei bel rumori. Invertiamo. Se sono rumori, una tanto, non succede niente. Se ogni giro il rumore si ripresenta, fai di cerchi un bucchettino più piccolo, tira di più i tuo mutandone. Se arriva il fastidio ti fermi. Inspiro e respiro. Non ruotare il bacino rispetto ai pavimenti. Tieni controllo delle anche. Inspira e respira. Se guardate gli esercizi del libro che vi consiglio, se vi capite per l'umano, gli esercizi sono molto più complessi. La premessa è che gli esercizi sono stati dirisitati e muturati alla luce della meccanica più moderna e della tecnica perché sia un pilates per tutti. Ok? Ottimo. Fermiamo. Accoggiamo. Sentite che il lavoro che ha fatto la gamba destra è calda. Quindi vi invito a piegare anche la gamba sinistra e a fare una ponte solo per togliere il lavoro. Quindi schiaccio le forniche, vado su in alto, stringo i glutei e allungo le cosce interrepente. Quindi non solo in una posizione solita di depressione delle coste in modo da non tenere gli scapoli appoggi. Sto facendo un esercizio per allungare le cosce. Poi dopo appoggio le scapole e lascio il glutei e srotolo giù la schiena. Quindi un ponte semplice, semplice di stretching per la salita e la discesa e di allungamento delle gambe quando sono su. Vado ancora su. Srotolando la schiena. Quando sono su, spingo un po' più in alto il bacino, stringendo i glutei in modo da sentire stretching nelle cosce anteriormente. Lo fate aperta lunga, tenete le spalle basse e poi rilassiamo i glutei. Abbastiamo le coste e appoggiamole nelle scapole. Appoggiamo le vertebre più in alto. Le vertebre lunghe. Solo quando è strecciato delle deformite riappoggio il nostro sacco. Perfetto. Ultima ripetizione. Un po' più solo uno stretching oggi. Vedete che gli esercizi li andiamo a complicare. altrimenti andiamo a rendere in più. Stretch. Stringo i glutei. Spingo il bacino in alto, lungo le cosce. Sentire la gamba destra. L'accusato. Più non vuole verso l'opposto. Ritornate vuole alla sinistra. Rilasso i glutei. Appoggio le scapole. Schiaccio le formiche. Appoggio il nostro sacro. Ritrovo le formiche. Rilasso il mio mutandone. Ritrovo le formiche. Abbasso le spalle. Appoggio le mani. Se vuoi, riporto le braccia. Stendere con la gamba sinistra in andre. Poi il suo sacro a destra. Mutandone con delettivo. Tive parallelo a terra. Mutandone forte. Formiche tranquillate nel tuo tunnel. Se te la senti, stendi la gamba sinistra. Vale che puoi tenerla piegata. I primi cinque. Proviamoci. Stendo e raggiungo con l'altra. Via. Uno. Occhie alle formiche. Non creare densità nel collo. Due. E inspiro e torno. Tre. E inspiro e torno. Quattro. E inspiro e torno. Cinque. Torna anche con la gamba sinistra. Controllo le formiche controllo il tuo mandone. Ora se te la senti, stendi la gamba sinistra. Primenti che va piegata come faccio io e altri cinque movimenti con la gamba destra. Via. Uno. Torno. 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 Quattro. Torno. Quattro. Quinto e ultimo. Torno. 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 Tente dell'altra. Tente dell'altra. Cercavo di fare un disegno preciso. Ora. Invertiamo. Torno sempre nel nostro bustino per evitare che la schiena si perda. No? Non deve essere un abbandono. Devo guidare questo movimento. Torno. 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 Inspiro e respiro, rilasso le spalle, poi a un'espirazione cercate di migliorare un po' questa sensazione di allungamento, quindi abbraccio i genocchi al petto mentre si contoro una gamba a terra, con la punta di piedi bella aperta verso l'esterno, in modo che in profondità della gamba distesa come un materassino si senta. Nell'alto, un po' di stretching, veniamo a tirare i flessori dell'uomo, ottimo, più benvenuti, ginocchia lana, anche qui cerchiamo di rilassarci, appoggiamo il dorso della mano per terra, chiudete gli occhi e addirittura copritevi se non l'avete già fatto, finalmente aprite il vostro bustino e concentratevi solo sul vostro respiro. Inspirate dal naso gonfiando la pancia, espirate dalla bocca e gonfiando la pancia. Inspirate dal naso gonfiando la pancia. Inspirate dal naso gonfiando la pancia. e metterlo in una posizione più comoda. Continua per respirare, inspirando il tuo naso ed espirando la tua buca. Tutto il nostro corpo è rilassato, è tranquillo. Parti rilassando i muscoli della fronte, togli ogni espressione dal fronte. Agli occhi chiusi, non stretti, rilassa tutti i muscoli degli occhi. Agli occhi chiusi, rilassa i muscoli della masticazione e anche quelli del collo, provando a rilassare le spalle. Il rilassamento scivola nei muscoli delle braccia, degli avambraccia, fino ad arrivare alla punta delle dita delle mani. È rilassato il tuo petto? È rilassato il tuo tronco? Sono rilassati i tuoi addominali? Sono rilassati i tuoi visceri? Sono rilassate le gambe? Le cosce prima, le ginocchia, le polpacce e tiglie, fino ai piedi alle dita dei piedi. Tutto il tuo corpo è rilassato, pesante, pesante sul materastino. Piano piano, fai dei piccoli movimenti, riprendi il contatto con l'esterno, muovi le mani, i polsi, le camiglie. Poi trasformare i movimenti più ampi, come se avessimo tornato tutta la lezione, adesso girate un po'. Il dolce mente, vieni sul fianco, ma visto che sei a casa, puoi anche rimanere giù, sono io che mi alzerò, mi raccomando, alzatevi lentamente, perché questi piccoli punti, questo rilassamento finale, ci aiuta un po' a rendere più finalizzato il nostro lavoro, mente e muscoli. Spero che la lezione vi sia piaciuta, spero che sia stato uno stacco alla vostra routine. Fatemi sapere, se volete lezione nel weekend, altrimenti ci vediamo sicuramente lunedì. Ricordatevi che è il nostro appuntamento, se internet funziona e si va tutto bene, è lunedì, mercoledì e venerdì alle 18.30. Per il weekend si accettano proposte. Un bacio a tutti, buona serata e buon lavoro. Perché dovete rifare le lezioni, eh? Spegniamo Instagram, ciao! Ma chi c'è su Instagram? Ciao Vitto, non c'è nessuno. Ciao a tutti! Chi c'è qui? L'alicia? L'analisa? I tanti! Ciao a tutti! Ciao Marco! Ciao Fede! Ciao a tutti! Buona serata! Ciao! Ciao!